e allora ciao pino io sono un vecchio metallaro proprio come te l'altro giorno hai fatto ho fatto volare il cd di gigi d'alessio dal finestrino della mia auto e la mia ragazza non mi ha più rivolto la parola viva levi metal ciao da aaron david da reggio miglia allora spero che non gli hai regalato tu il cd sennò proprio ma la tua ragazza non te l'ha data più proprio allora cosa non si fa per quella roba lì jack